Ci saranno tempi rapidi per il ripristino delle condizioni di sicurezza al porto di Maratea. Questo l'esito della riunione di oggi in prefettura a Potenza, convocata per rispondere alle esigenze delle imprese della pesca. I dettagli nel servizio di Eugenio Montesano. Abbiamo avuto il piano di calpestio che è stato divelto, l'impianto antincendio anche molto danneggiato e quindi queste riunioni saranno propedeutiche per cercare di capire quando verranno messi in atto gli interventi. Maratea riavrà presto la piena agibilità del suo porto. Dopo la mareggiata di novembre e quella che lo scorso 20 gennaio ha severamente danneggiato il molo nord, quello più aperto al mare dove lavorano i pescherecci e non vige la concessione all'attracco per i privati, il sindaco della Perla del Tirreno assicura che il ripristino avverrà in tempi stretti, pienamente in anticipo rispetto all'inizio della stagione turistica. Il contratto con la ditta esecutrice dei lavori è stato firmato il giorno 16, il direttore dei lavori dovrà dare indicazione alla ditta per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del molo nord. Sono lavori semplicissimi di esecuzione perché si tratta di interventi sulla pavimentazione di poca importanza, il ripristino delle griglie e un controllo sulla tubazione dell'antigenza. Ma i pescatori non sono tranquilli. Noi ci aspettavamo, come ci era stato promesso nello scorso tavolo di sicurezza portuale, lo stanziamento di veloci risorse, non un liter normale che riguarda la questione della riqualificazione totale del porto. Proprio dalle imprese della pesca è venuto l'impulso a chiedere un nuovo tavolo al prefetto dopo quello di gennaio. La zona del centro del porto che deve essere resa fruibile non solo agli operatori appunto del settore ittico ma anche agli utilizzatori di quella parte importante e molto interessante anche dal punto di vista turistico.